Durante la conferenza stampa con tutti i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo e dagli alagamenti è stata affrontata anche la polemica sulle comunicazioni molto sentita oggi a Faenza. Tanti feintini arrabbiati per essere stati avvertiti tardivamente quando ormai l'acqua aveva raggiunto le case. Chi ha subito danni in questi giorni lamenta che avrebbe potuto salvare qualcosa, quantomeno l'auto se fosse stato avvertito in tempo delle eventualità che si potevano verificare. Sul tema ha risposto in conferenza stampa il sindaco Massimo Isola. Fra le zone della città danneggiate si punta il dito anche contro l'eccessiva importanza data ai social network, canali che non possono essere raggiunti da tutti, specialmente dagli anziani. Nel momento in cui ci sono le condizioni oggettive per evitare che un tema di organizzazione e di sicurezza generi più insicurezza, bisogna, credo, comunicare, organizzare evacuazioni nel momento in cui si assicuri che questo fenomeno ci aiuti a creare sicurezza, non disagio di mobilità, di trasporto in una fase nella quale si è dentro una turbolenza come quella nella quale eravamo, dentro una perturbazione fuori dal comune, dentro una viabilità interrotta per eventi legati alla turbolenza. Noi siamo andati a comunicare definitivamente dei territori colpiti nel momento in cui questa emergenza si è mostrata tale e fosse decisivo per vedere una mobilitazione di quel territorio. Ovviamente ciò è avvenuto dopo che, diciamo, dalla tarda serata abbiamo lavorato per costruire una comunicazione per sé. Ovviamente l'appeggioramento del contesto meteorologico era avvenuto ora dopo ora con gli strumenti di cui abbiamo disposto, siamo riusciti a entrare in contatto con migliaia di cittadini, una comunicazione coordinata con la Prefettura dove già in tarda serata abbiamo dato dei consigli, di comportamento che rendessero possibile e compatibile l'attività di vita con ciò che stava succedendo, quei consigli ci hanno permesso di evitare disastri che sarebbero potuti accadere. C'è un tema che ci siamo posti tutti di come riuscire a creare in piena emergenza una comunicazione il più capillare possibile, sicuramente si può, si poteva fare di più, noi abbiamo fatto tutto il possibile anche attraverso un uso forte che abbiamo chiesto ai vigili del fuoco, ai carabinieri e a polizia di aiutarci nel momento in cui abbiamo perimetrato un territorio di sofferenze per andare là in loco mentre stavamo algendo, interagendo in tanti contesti urbani e a questo abbiamo fatto. Poi la comunicazione è passata in certi settori sociali, in altri ha fatto più fatica, il fiume Ramone insieme alla regione è un fiume attenzionato, nel corso del 2002 abbiamo fatto azioni, abbiamo una storia una storia dimostrata passo dopo passo nella quale siamo un'unica di quello spazio.